Nel periodo più buio del lockdown, seguiti a distanza dalle insegnanti, i bambini e le bambine hanno continuato a sognare e a immaginare un mondo uguale per tutti e rispettoso delle diversità. È venuto fuori un lavoro straordinario, con delle magliette che, al di là della creatività di ognuno, lanciano un messaggio fatto di amore, rispetto, solidarietà, consapevolezza. E così, con l'elaborato Ainoa e Ken, gli alunni e le alunne dell'Istituto Gianni Rodari, coordinati dall'insegnante Silvia Frezza, si sono aggiudicati il premio speciale Teresa Sartistrada, organizzato nella sua undicesima edizione da Emergency. Abbiamo messo su un laboratorio creativo diffuso, con coordinamento delle insegnanti a distanza, come è stato d'altronde l'ultimo anno e mezzo di scuola. Rappresenta un premio che mette insieme tante energie, che mette insieme tante intenzioni, che mette insieme le aspettative future dei bambini e delle bambine, verso una società equa, solidale, coraggiosa e rispettosa. Nonostante la scuola ormai chiusa, i bambini e le bambine si sono ritrovati insieme con le insegnanti per ricevere, seppur a distanza, il premio, con grandissima emozione. Gli alunni e le alunne hanno spiegato come hanno realizzato le loro magliette e perché, e soprattutto quali sono le azioni che quotidianamente compiono per difendere i diritti ogni giorno. Il lavoro è entrato così a far parte di The Walk, un progetto che racconta il viaggio di Amal, una bambina, dalla Siria all'Europa, per sfuggire alla guerra verso una vita migliore. Il titolo è quello qua, è I Know, I Can, cioè io so che ce la posso fare, io so che sono in grado di farlo. Che cosa? Delle piccole azioni quotidiane, ciò che si può condurre facilmente ogni giorno, a livello di bambino, di bambina di 8, 9, 10 anni e senza timore, senza avere paura di affermare sempre e comunque tutti quei valori che loro conoscono a memoria, perché conoscono a memoria l'articolo 3 della nostra meravigliosa Costituzione italiana. E quindi valori fondati sulla solidarietà, sul rispetto, sull'impegno personale e solidale. Grazie.